Manipolare carichi in ergonomia e sicurezza? La soluzione è INDEVA. Manipolatori intelligenti per la movimentazione manuale di carichi in totale e senza ripeso e senza sforzo per l'operatore. Dal 1975, Scaglia INDEVA realizza manipolatori elettronici all'avanguardia, con una gamma in costante evoluzione per movimentare carichi in modo rapido, preciso e sicuro. L'offerta più completa sul mercato, dai manipolatori pneumatici tradizionali a quelli elettronici di nuova generazione, con assistenza e consulenza specialistica pre- e post-vendita. INDEVA. Movimentazione intelligente.